musica musica mi piace questa intro la voglio vedere altre mille volte musica passo la giornata a guardare l'intro di dmg oggi farò la storia di roblox a doppi dei test no in realtà stavo scherzando no no dai no seriamente cosa è sto musica mia ok ma cosa stai facendo maialino ma pere 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 son un milionario son un milionario allora maialino non vorrei riminarti la festa però mi dovrei riprendere quelle mille soldi ok ma ma patrocina ho voglia di spendere Non voglio prendermi delle cose belle Invece che lasciarmi lì E apprendere polvere praticamente 200 robux 3, 2, 1 Si si Oh mio dio Guardate sono diventata la regina delle ladybug Vai buttiamo Buttiamo Non voglio guardare Oh che bella Elsa buongiorno Elsa di Frozen Lo lancio Pinguini Andate No 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 tu no Ma il golden pinguino non va neanche No L'ho No Ho avuto Ho avuto Normale Vabbè dai carino quello normale Compriamo 3, 2, 1 Ok Allora ragazzi io voglio Cioè voglio chiudere gli occhi Devo chiudere gli occhi vi prego Lo butto qua Non bene Non bene Non bene Non bene L'ha presa No 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 Ma però aspettate E' quella E' quella E' leggendolo No Perché è quella con la faccia nera E' leggendolo No raga no Non ci credo Cos'è sto cavo Ma cos'è sto cavo Ma cos'è sto cavo Quale cavo Questo Ah ma è quello della tastiera scusa Ma come della tastiera Scusate Vabbè intanto che ci sei saluta Ciao Ciao a tutti Ehm Va bene 200 Ehm Non lo so 250 Ehm Tututututu Ok Contento Non è tanto Non ci posso comprare tante cose Vabbè maioni Non sono affari miei Allora Andiamo a prenderci l'eg Che bello Non ce n'è Ma è fighissimo Ragazzi Guardate quanto è carino Io sono qua Da mezz'ora Che sto aspettando Che so che mi chiede qualcosa Mi ha chiesto Fino ad ora solo Due cose Praticamente Dai vuoi che ti riporti Dal petalista Per più tempo Ho visto Quattro Me la sono perdita Praticamente Intendevo Quello che vende pet Ti posso ridare Se vuoi Allora non avrai più una casa Rimarrai nel tuo egg Senza che nessuno Ti schiuda Se vuoi Guarda ti posso dare Anche addirittura Una roba buonissima Quella che ho comprato prima Ti posso dare La cioccolata calda Ti piace Guarda quanto è bella Guarda quanto è bella Ti piace la cioccolata calda Dai A tu ti piace la cioccolata calda A sonno Lulù Sei pronta Per essere Lookata Perchè tutti quanti Mi devono coinvolgere Queste cose E come secondo look Lulù De Queen Ma che occhiali C'ha Lulù C'è senza offesa Ma però Come fanno ad essere così grandi Buongiorno maialino Come stai Sto male Perchè tu l'altra volta Mi hai dato 5 euro E allora io me ne vado Se mi ne hai così pochi soldi Perchè sono stufo Di stare qua A guadagnare pochissimi soldi In un anno intero Guadagno solo 5 euro Mi piace molto 300 euro Quindi io rimango Ti ringrazio maialino E ti volevo chiedere una cosa Ti piace il mio nuovo cavallo Giammarino Dei nuovi Ocean Ang Spero proprio che ti piaccia Beh lo so Vi sto di meglio Ok Vedo che tu Non apprezzi E questo guarda che bello Ma questo è bellissimo Anche se è la faccia nera Ma io non capisco dov'è Ah ok Questo è davanti Ma qua Ma qua Ma non si capisce Ok va bene No me lo sembrava Ma me lo so Perdere Ok Ok ragazzi Per questo video Ci premiamo così Spero che il video vi sia piaciuto Se è così Cliccate un pollice In su Iscrivete al mio canale Cliccate la campanellina Per avere tutti i notifichi Del mio canale E ciao Al prossimo video Al prossimo video Grazie.